Allora, buonasera, grazie a tutti di essere venuti, grazie a Giorgio De Finis che mi ha di nuovo invitato qui in auditorium, un appuntamento che mi dà particolare piacere, a parlare di una persona che ha avuto grande importanza nella storia dell'arte e della cultura e non solo del femminismo italiano, Carla Lonzi, e che rappresenta ancora oggi una testimone scomoda, diciamo così, nella narrazione anche dell'arte contemporanea italiana a cavallo tra 60 e 70. Una figura molto particolare che ha attraversato molti ambiti, che ha fatto ottimi studi, è stata allieva di Longhi, come certamente sapete, con Marisa Volpi, Marisa ha avuto l'onore e anche la fortuna di poterla conoscere, due donne al loro modo straordinarie, di grande temperamento, che si dividono, litigano, e di molti litigi è fatta la biografia amicale, sentimentale e anche politica, in un certo senso di Lonzi. Ed è fatta di una secessione, di uno scisma, che poi alla fine risulta dolorosamente individuale, senza seguito, diciamo, senza clac. E in Italia non avere clac, non volerla, diciamo così, è molto scomodo. Infatti Carla è sostanzialmente una persona, diciamo così, che ancora oggi attende che un certo suo allontanamento dall'arte contemporanea ha reso manifesto da una celebre lettera, Celant, nell'81, polemica a suo modo, in cui chiedeva che il suo silenzio fosse compreso come un silenzio eloquente, non il silenzio di una sconfitta o di una diminuzione di interesse, ma un silenzio che voleva chiedere parola, che attendeva ascolto. Beh, insomma, ancora oggi questa richiesta rimane lì. Io, a costo di deludervi, non parlerò però di Carla Lonzi, femminista, per cui non ho titolo e forse non adeguato interesse. Parlerò di Carla Lonzi da punti di vista civili. Ne parlerò in relazione a autoritratto, che è un testo legittimamente, che noi avviciniamo da punti di vista o riduttivamente storico-artistici o di gender, e che forse però chiede di essere avvicinato anche da punti di vista molto diversi, senso lato politici, non politico-partitici come vedremo, ma tutt'altro, da punti di vista civili, da punti di vista storici e politici. Cioè, in autoritratto c'è una domanda, in fondo, che è la domanda che io cercherò di porre con voi. Mi ero preparato un testo molto minutamente strutturato, diciamo così, ma preferisco andare a braccio, quindi mi perdonerete poi se qualche passaggio manca, diciamo, deve essere irrobustito. Comunque abbiamo le immagini. Il tema di cui parlerò è quello del rapporto tra avanguardia e democrazia in questo paese. E lo faccio da storico o da intellettuale, non lo faccio da militante, anzi, lo faccio formulando, diciamo così, una piccola premessa, che è quella di un distacco dalla cronaca. Nel senso, mi soffermo su alcune questioni molto delicate, che concernono appunto il rapporto delle cerchie creative alla democrazia in questo paese. è una questione che richiede di essere affrontata da prospettive di lunga durata, non di polemica del giorno, e quindi, diciamo così, avendo uno scrupoloso desiderio di non fare propaganda o di non fare polemica, cercherò di provarmi a essere il più rigoroso possibile, chiedendo al tempo stesso a voi di seguirmi sulla via di un distacco dall'attualità immediata, che potrebbe sviare, potrebbe diminuire l'attenzione. Se il rapporto tra avanguardia o cerchie creative e democrazia è al centro di questo mio intervento, che si focalizza, ripeto, sulla seconda metà degli anni Sessanta, ma in realtà chiama in scena l'intero secolo, l'intero novecento italiano, questo problema io cercherò di mostrarvelo attraverso un fuoco preciso, attraverso un punto di vista preciso, che è appunto il punto di vista che spesso rimuoviamo nell'avvicinarci a autoritratto, da punti di vista storico-artistici o di gender. Punto di vista civile che concerne il problema dell'esaurimento di un certo antifascismo postbellico, che è dichiarato a chiare lettere in autoritratto da più voci, come vedremo. E la cosa è tanto più significativa perché attorno a questo esaurimento di un antifascismo postbellico, che non significa affatto ritorno al fascismo né esaurimento dell'antifascismo come tale, significa esaurimento dell'antifascismo repubblicano, si sviluppa una conversazione che ci porta negli Stati Uniti, nelle comunità hippies, per le strade dove manifesta il movimento studentesco, ma ci porta anche nella Germania di Beuys, che di lì a poco arriverà in Italia. Ci porta punti molto importanti nella storia culturale del novecento in cui, diciamo così, l'agenda culturale di una certa sinistra critica accoglie culture che sono di destra, o sono anche di destra. La conversazione che si svolge in autoritratto, e questo complica diciamo certe narrazioni anche pacificate, troppo pacificatrice e conciliate che ancora oggi si fanno sul carattere civile, naturale della storia dell'arte italiana. La conversazione che si svolge in autoritratto di Lonzi scopre una qualche fragilità, o imputa, non voglio prendere posizione, una qualche fragilità dell'ordinamento repubblicano, considerato da punti di vista per così dire teologico-politici. Ammetto che nessuno al tempo avrebbe voluto definire così o accettato di farlo. Tuttavia, l'istanza di comunità e il distacco dalla politica intesa nel quadro delle istituzioni democratico-parlamentari vigenti, la delusione post-resistenziale, l'antagonismo giovani-vecchi, il rifiuto dei partiti, l'affermazione delle controculture e di punti di vista post-storici e impolitici, come quelli appunto degli IP americani. Sono circostanze che spingono taluni e lonzi tra di essi a misurarsi con ciò che la democrazia liberale in genere e la Repubblica italiana hanno da offrire, in un clima reso incandescente dalle trasformazioni del capitalismo e dal crescente ruolo geopolitico, economico e militare americano. Il tema per molti, anche se non per lonzi, è quello della crescente divaricazione tra Repubblica e Mito. Questa divaricazione produce irrilevanza nell'ordine estetico e nell'ordine simbolico, cioè nell'arte. E la mancanza di motivazioni condivise, capaci di... Quindi il tema, quella divaricazione produce la mancanza di motivazioni condivise e capaci di federare e legare tra loro la comunità dei cittadini. Questa, che in altri tempi avremmo chiamato assenza di nazione, conferisce all'attività artistica contemporanea un'inquietante levità e gratuità, se non appunto irrilevanza. E a questo proposito che Pascali, che in qualche maniera è l'interlocutore politico-ideologico di Lonzi, se vogliamo, in maniera inattesa, parla in modo ambivalente delle sue installazioni, come di bolle di sapone, qualcosa che ad oggi non è stato spiegato. Ecco, se consideriamo autoritratto da punti di vista civili, ebbene, possiamo dire che la posta in gioco della discussione platonica nella sua forma letteraria è la partecipazione o il distacco della comunità dei creativi, partecipazione o distacco dalla Repubblica, l'apolidismo o la loro cittadinanza culturale. I motivi possono essere diversi, come vedremo, comeppure varia l'asprezza della contestazione. Resta però che in autoritratto si conclude da più parti la difficoltà di aderire a questo Stato, e a fronte di queste difficoltà determinate pregiudiziali politico-ideologiche perdono assolutezza, quantomeno in un ambito sorvegliato e circoscritto come l'arte. Il problema civile, storico e politico, si è detto, è anche il problema identitario. Non tutte le voci che ascolteremo, cui daremo ascolto, sono concordi, né tutte fanno riferimento al problema della difficile e incerta collocazione dell'Italia nel consesso atlantico, dei decenni della guerra fredda. A mio avviso però è estremamente significativo che alcune tra queste voci, e non le minore tra di esse, Pascali e Fontana ad esempio, in primis, ma anche Turchato e più indirettamente Paolini, facciano riferimento proprio a questo, cioè a un anti-americanismo di fondo, viscerale, e lo facciano autorizzate dall'ONSI. Nell'affrontare autoritratto, convinto come sono che la storia dell'arte non è né cronaca né biografia, come invece sembra sostanzialmente essere in ambito accademico, preferisco dialogare con storici della cultura piuttosto che con storici dell'arte. e formulo qui il mio fervido omaggio a un allievo eterodosso di De Felice, come Niccolò Zapponi, il cui miti e ideologie, apparso nel 1981, regolarmente fuori delle bibliografie storico-artistiche, però è oggi tra le migliori, non molte, narrazioni di cui possiamo disporre ai fini di una storia culturale punteggiata di riferimenti figurativi. Non c'è qui il tempo nemmeno di introdurre la trattazione, ma semplicemente di enucleare due categorie che Zapponi formula con particolare riferimento alla storia letteraria e in particolare vista attraverso il gruppo 63. Le categorie di internazionalizzazione e secolarizzazione che a dire Zapponi avrebbero caratterizzato l'arte italiana del secondo novecento. Ecco, vediamo che queste categorie smettono di funzionare egregiamente, quindi smettono di funzionare egregiamente se dall'ambito letterario noi passiamo all'ambito figurativo che presenta uno scenario di resistenza su cui è sceso Stienzio. Andiamo a verificarlo. Intorno a noi, ci dice Pascali, lo dice a Lonsi in un'intervista del 66 che poi finisce in autoritratto nel 69, cioè già pubblicata in precedenza, ma pubblicata poi in autoritratto nel 69. Intorno a noi, cioè noi, gli artisti creativi, non c'è un mondo, non c'è una civiltà di cui noi possiamo assumerci le responsabilità con un nostro gesto. Ora, Pascali qui reclama, sia pure in forma elegiaca, diciamo così, un proprio ruolo di vate o di leader generazionale, in cui l'artista spetta una sorta di primato in una rigenerazione, non al leader politico, all'artista spetta un primato in un compito di rigenerazione sociale, culturale, della collettività. All'inizio del Novecento i futuristi dicevano nazione. La circostanza è sorprendente perché presuppone, a un qualche livello tacito dell'argomentazione di Pascali, che il tema della comunità di riferimento della nazione non sia per niente assente in lui, malgrado nelle narrazioni contemporanee che di lui danno Brandi o Calvesi, si insiste esclusivamente sul tratto iperindividualistico della sua attività. Potrebbe essere una rimozione, potrebbe essere un'amnesia. Di fatto, in autoritratto, Pascali prosegue svolgendo un curioso paragone tra l'artista italiano e l'artista americano. Il primo, cioè l'artista italiano, per Pascali è solo, è caratterizzato dalla sua separatezza, è avulso da un contesto sociale, non è organico. Ha come unici interlocutori i membri di una società un po' polverosa, troppo usuale e ristretta, che sono amici, appassionati, collezionisti, intenditori. La cerchia piccola, in altre parole. Invece l'artista americano, che virgoletto, perché è una sostanza mitica, ma Pascali crede nella sua esistenza, si colloca invece per lui in modo più semplice e organico all'interno di una società che ha le sue stesse credenze e memorie. Quindi dispone di una cerchia larga o larghissima a cui rivolgersi. Nel fare installazioni o assemblaggi, perché poi qui Pascali pensa a Rauschenberg, non ufficia un rito forbito, ma però diventato esangue, come in Italia. gioca, invece coinvolge, si diverte con ciò che ha a portata di mano e diviene. E prosegue, cito, non è che sto in Italia e sono italiano e se andassi in America rinuncerei a essere italiano. Chiarisce, se così si può dire, Pascali. No, riprende, in Italia non ci sto perché l'Italia non esiste. Però, se vado in America, sono nessuno in America. e conclude in questo modo più Sibillino di tutto il resto, che è già molto Sibillino. L'oralità, quindi, gioca al servizio della reticenza, non è semplicemente una scelta neutrale da parte di Lonzi né tantomeno di Pascali. Però, in questo posto, cioè in Italia, ci sono tante bolle di sapone che scoppiano ogni tanto. Poi se ne crea un'altra e queste bolle di sapone sono piene di vuoto. Però le ho create io e dentro mi ci nascondo. Ora, la metafora della bolla di sapone, letta in combinato, diciamo, con tutte le precedenti parole di Pascali e anche molte altre che per ragioni di brevità ovviamente non vi riporto che troviamo nella stessa intervista a Lonzi, la metafora della bolla di sapone illustra per Pascali l'aleatorietà di tutto ciò che è arte contemporanea in Italia. Una giostra, le giadre, iridescente, un divertimento per fanciulli destinato a non avere alcuna conseguenza storica o sociale effettiva e a dissolversi in un attimo di gagliarda gaiezza. Potremmo ragionevolmente divinare in tutto ciò che Pascali afforma sulle bolle di sapone il desiderio inesaudito di liturgia politica, cioè di un'arte che invece è organica, un tessuto sociale nazionale e che forgia comunità. un desiderio quindi di liderismo non solo artistico ma anche in senso lato politico in chiave futurista o neofuturista. O meglio del ruolo che a fini di liturgia politica l'arte aveva svolto in seno appunto al futurismo. Ecco, come non stabilire correlazioni a questo punto indirette tra le bolle di sapone di Pascali con il loro implicito rimpianto diciamo così di una separatezza o disorganicità dell'artista è un celebre articolo un celebre saggio di Fortini uscito qualche anno prima sulla fine del mandato di artisti scrittori intellettuali uscito raccolto in verifica dei poteri un saggio che si chiama appunto fine del mandato e fine dell'antifascismo. Pascali definisce sadiche le sue installazioni cosa che noi teniamo un po' a sottovalutare diciamo così nella letteratura artistica e curatoriale per cui il carattere ludico che peraltro esiste il carattere quasi di innocenza diciamo così di allestimenti che non volevano essere assolutamente innocenti ma appunto vengono descritti da lui stessi come sadici fra virgolette teniamo appunto a non coglierlo più cioè questo aspetto di sottrazione che è di animali sadicamente tagliati come a esprimere appunto un impasse un deficit di funzionamento di politicità di una liturgia che sprovvista di politicità cioè di efficacia storico sociale rimane un gioco rimane una liturgia sostanzialmente fine a se stessa un rituale ludico e fanciullesco come le bolle di sapone abbiamo qui un Pasquale che ci offre un punto di vista diciamo così sull'imminente arte povera completamente diverso quasi saviniano elegiaco neoclassico diciamo così rispetto al baldanzoso macio-ghevarismo di Celante degli appunti per una guerriglia qui è proprio l'assenza della guerriglia che induce a tagliare l'animale e a destituirlo di vita di aggressività di libido e suggerisce invece di imbalsamarlo ecco questa circostanza di imbalsamazione di esistenza postuma dell'artista contemporaneo in Italia non è acontestuale siccome Pasquale ci dice anche che lui si muove in un vuoto con tutte le circospezioni di chi opera sul mercato e non può compromettersi con parole troppo taglienti è evidente che però il suo riferimento è prima o poi la Repubblica uscita dal dopoguerra è questa stessa Repubblica il vuoto il vuoto di mito il vuoto di coesione sociale il vuoto di motivazioni reciproche che giustifica la separatezza di per sé poco meno che suicidaria dell'artista contemporaneo il solipsismo dell'artista contemporaneo a una data determinata ripeto la data dell'intervista è il 1966 vuota per Pasquale non è una categoria estetica è una categoria teologico-politica cioè è vuota la Repubblica appunto sorta dall'antifascismo e di questa l'artista di questo Pasquale ci sta parlando qui come aicheggiare quelle perplessità e scetticismi che nell'immediato dopoguerra dunque circa un quindicennio prima avevano accompagnato il passaggio da regime alla democrazia anche di antifascisti militanti lungimiranti e perspicaci come Capitini o per altro verso Aldomoro o se vogliamo cambiare prospettiva i giovani intellettuali di azione cattolica o Franco Fortini cosa resta se qualcosa dopo la fine della civiltà mediterranea che si è rivelata un cartonato ma che cosa resta dopo la fine di quel cartonato e la capitolazione delle sue indegne retoriche questa è la domanda di Pascali che sceglie non a caso inquiete vie di fuga e mutilazioni per la serie degli animali altrimenti troppo classica o classicheggiante ed è una domanda per niente appunto ingenua che smentisce in parte la tesi molto più ottimista diciamo così che Calvesi propone nelle due avanguardie Calvesi al tempo è molto vicino biograficamente che non significa che lo capisce è semplicemente contiguo diciamo così a Pascali e nelle due avanguardie ci parla della ripresa diciamo così attraverso Pascali stesso e soprattutto Schifano di un progetto di superamento della guerra e della rivoluzione con una guerra e una rivoluzione artistico-letteraria la citazione da Marinetti sta a un duplice senso una ripresa del futurismo e al tempo stesso una ripresa del progetto futurista di trasformare il paese cioè la nazione di nuovo senza diciamo così la rivoluzione bolshebica ma attraverso un'operazione diciamo così di semplice egemonia semplice per niente di egemonia culturale ora l'ottimismo l'euforia diciamo così di Calvesi non appare per niente condivisa da Pascali il quale di fatto sembra guardare al progetto eroico modernista di Marinetti con un cordoglio con un senso di perdita di distanza non c'è nessuna rivoluzione diciamo così che possa passare per le arti e tanto meno per la politica considerato cos'è la politica nella Repubblica in una situazione ci troviamo quindi di se non declamata almeno sussurrata fine dell'ideologia o fine della politica che sono parole citazioni da Carla Lonzi sputiamo su Hegel di un anno successivo fine dell'ideologia e fine della politica sono parole di Lonzi vale la pena nell'attraversare autoritratto in cerca di disagevoli inquietudini storico soprattutto in questo momento del dibattito pubblico disagevoli inquietudini storico politiche andare oltre Pascali guardarsi attorno se lo facciamo troveremo affermazioni non meno rilevanti su cui non esiste letteratura forse non a caso e circostanziate A sulla crisi della democrazia e B sulla fine dell'antifascismo repubblicano affermazioni queste ultime che riecheggiano peraltro una discussione già avanzata in ambito di sinistra radicale non PC sulla rivista Quaderni Piacentini all'inizio degli anni Sessanta una rivista in cui interno ovviamente la presenza di Fortini è decisiva sono affermazioni queste che per quanto preparate da Quaderni Piacentini assumono nel contesto del libro Convito di Lonzi risonanze anche inattese Carla Accardi richiama ad esempio una tavola rotonda tenutasi di recente a New York dal titolo Democracy Has or Hasn't a Future a Present una conferenza sulla crisi della democrazia cui avevano partecipato tra gli altri Arthur Schlesinger Junior Herbert Marcuse e Norma Mailer nell'occasione si erano formulate vigorose tesi antisistema Marcuse e Mailer erano stati più radicali e ci si era domandati se la violenza studentesca non dovesse essere considerata politicamente lecita mutiamo pure scena politica torniamo in Italia restando però all'interno di autoritratto i toni non si attenuano con Sagra si affretta a chiarire che il PC ex militante e compagno di Lonzi al tempo si affretta a chiarire che il PC dal suo punto di vista equivale alla DC introducendo il tema della disillusione dell'ex militante Turkato ex partigiano accusa DC PC e PSI di avere tradito la resistenza e rende addirittura omaggio e devo dire se non l'avessi visto con i miei occhi questo mi sarebbe sembrato addirittura peregrino o impensabile rende omaggio a Bottai in autoritratto di cui l'editore Cappelli di orientamento moderato ha appena ripubblicato un'antologia di scritti piuttosto interessante ovviamente per il montaggio ciò che tra interruzioni Bottai in autoritratto l'indice dei nomi Giuseppe Bottai ciò che tra interruzioni e fratture di ogni genere sembra segnare continuità tra anni 30 e 60 ambizioni di revisione e propositi di guerriglia non è certo su questo voglio essere chiaro una qualunque accezione di fascismo sansepolcrista futurista mussoliniano bottaiano o altro ma certo rimane e attraversa esonda ed è tutt'altra cosa dal fascismo ma rimane l'istanza di una comunità o nazione eretica mistica e generazionale se necessario antistorica e adialettica già vociana e futurista in origine la antiliberale e antigiolittiana qui anticapitalistica e anti americana che ha la sua testa o dovrebbe avere uno o più artisti in sostituzione dei politici e che i più giovani e resta anche che i più giovani tra i convitati lonziani o taluni tra di essi Paolini e Fabro ad esempio e lonzi con loro non sono per niente disposti a sacrificare la richiesta post bellica di partecipazione democratica mediata da partiti quest'istanza che io chiamo comunitaria o comunitarista e ereticale c'è quindi una nazione vera da contrapporre alla nazione statistica o numerica la nazione rappresentata dalle istituzioni parlamentari e dalla costituzione di cui non a caso in autoritratto non c'è una sola menzione né pro né contra ora questa comunità è rappresentata lì in una celebre autoritratto fotografico di Giulio Paolini che è pure riprodotto nell'autoritratto di Carla Lonzi e si dà la cifra diciamo così con Lonzi al centro e Fontana anche qui nel ruolo di mentore Fontana di cui nessuno ignora la biografia politica e che figura diciamo così per acclamazione dai tetti come trait d'union tra le due metà del novecento sia in autoritratto di Lonzi che nell'autoritratto con il doganiere Russo di Giulio Paolini la convinzione diciamo così che giustifica in qualche maniera una certa diminuzione di allerta nei confronti di pregiudiziali ideologico-politiche resistenziali e postbelliche la convinzione è che l'arte di ricerca sia anche azione una convinzione che io non condivido voglio dirlo per chiarire il mio punto di vista credo che sia stata anche fortemente questo liderismo questa ricerca richiesta di liderismo politico da parte degli artisti sia stato uno dei miraggi diciamo così del secondo dopoguerra ma che evidentemente qui c'è e non solo qui la convinzione è anche che questa che l'arte intesa di ricerca possa contribuire non come una prima un'attività prima tra pari ma come prima to cure al rinnovamento storico e culturale del paese contro le istituzioni quindi dal di fuori della democrazia parlamentare e qui ha ragione Zapponi a questo proposito che risorge il mito del primato dell'artista che è un mito non di sinistra che non nasce all'interno di quella che può essere considerata una tradizione di modernismo marxista qui rinasce il mito del primato dell'artista sia pure corredato diciamo così di un sopporto ideologico adeguato a scongiurare il rifiuto da parte progressista sta di fatto che elitarismo o ultraelitarismo in politicità in senso metafisico e radicalità sono i requisiti primi di un soggetto imprevisto che ha determinati connotati diciamo così terzi rispetto alla topografia politico-ideologica repubblicana e di questo un critico così acuto e tagliente come Paolo Fossati si rende ben conto in uno scritto furente contro Carla Lonzi nel 71 in cui le rimprovera la postura con fortissima se non eccessiva severità le posture sacerdotali e il gioco diciamo così floreale che nasconde in realtà sotto testi per lo più preterintenzionalmente sotto testi ideologici di destra ecco rispetto all'ambito letterario del gruppo 63 con cui si potrebbe essere tentati non per questi diciamo più in generale visto che poi Lonzi pubblica queste riviste per lo più su Marca 3 che del gruppo 63 è la rivista si impongono delle differenze molto molto forti questa lonziana è una comunità che intende muoversi sul piano di una qualche santità o grazia citazione santità e grazia sono citazioni d'autoritratto contro culturale santo in autoritratto è Duchamp che sposta il discorso della bellezza intesa come redenzione dall'opera alle tecniche di vita però santo è un aggettivo abbastanza importante grazia di grazia fra virgolette discutono invece Paolini e Fabro a lungo ecco abbiamo santità e grazia che si contrappone al funzionariato culturale proposto diciamo così dai letterati e critici del gruppo 63 è una differenza molto forte d'altra parte in autoritratto si nega validità ed è la unsi la prima a farla al pc ad esempio e al principio di rappresentanza come se non è citato Simone Weil ma certo siamo su posizioni molto vicine a quelle espresse in precedenza anche da Breton ad esempio o da Simone Weil dalla Simone Weil del manifesto per la soppressione dei partiti politici apparso postumo del 1950 dunque un contesto diciamo così ideologico potentemente scissionista diciamo rispetto al quadro parlamentare con disponibilità a culture che non sono raziocinanti o marxiste si potrà obiettare parebbe anche sensato ragionevole e sarebbe parebbe anche sensato farlo che questa è un'interpretazione troppo politico ideologica di autoritratto di in parte lo può essere se non che Lonsi è essenzialmente una pensatrice politica nel senso che rinuncerà all'attività di critica d'arte per scrivere testi come sputiamo su Hegel tutto centrato sulla rottura della dialettica e sul principio della differenza quindi politico lo è senz'altro al tempo stesso è antipartitico verrebbe anche la voglia di leggere il femminismo di Lonsi non in chiave mitica ponendo per una volta il problema delle fonti anche se maschili anche se patriarcali per rendersi conto che diciamo esiste un contesto della riflessione di Lonsi che è quello dell'Italia repubblicana il femminino leggiamo in sputiamo su Hegel un titolo devo dire che più che ritrovo più che mi sembra insolente e selvaggio e uso il termine non casualmente pensando a una tradizione fiorentina anche bescera diciamo così quanti altri mai il femminino leggiamo in sputiamo su Hegel irride l'uomo pensoso che in età avanzata indifferente al piacere pensa e cura soltanto l'universale il femminino e si volge invece al giovane per trovare un complice nel suo disprezzo mi chiedo se questo rifiuto della dialettica hegeliana in Lonsi sarebbe stato così deciso e il rifiuto della dialettica servo padrone sarebbe stato così deciso in Lonsi se il padrone non avesse avuto già in autoritratto i tratti screditati e decrepiti dell'antifascismo democristiano o comunista ai suoi occhi il rifiuto della sottomissione femminile di nuovo in sputiamo su Hegel con le donne inevitabilmente chiamate al ruolo di moglie e madri operose non retribuite investe con il fascismo e questo non c'è dubbio l'intero patriarcato post bellico di fatto Lonsi non fa mai differenza da questo punto di vista e cioè i partiti dell'arco costituzionale i sindacati le associazioni confindustriali per tutti vale la chiamata di correo dal punto di vista di Lonsi perché sussistono precisi continuità politiche sociali per così dire antropologiche tra fascismo e repubblica in merito ad esempio al rapporto tra sessi e alle politiche del lavoro scrive Lonsi in autoritratto la maternità è il momento in cui ripercorrendo le tappe iniziali della vita in simbiosi emotiva con il figlio la donna si disaccultura essa vede il mondo come un prodotto estraneo e le esigenze primarie dell'esistenza che lei rivive la maternità è il suo viaggio la coscienza della donna si volge spontaneamente all'indietro alle origini della vita e si interroga posto che le origini sono evidentemente un inizio antidialettico e astorico quanto di cioè un primordio quanto di queste parole mirabili è vero in senso astorico e atemporale e quanto invece è storicamente legato a circostanze e ambiti argomentativi riconoscibili come ad esempio il primitivismo avant-garde la ricerca surrealista delle origini ma per essere ancora più concreti quanto di questo discorso è riconducibile in concreto alla mancanza di politiche pubbliche di welfare e di sostegno al lavoro femminile nell'Italia o nell'Italia anche repubblicana voglio arrivare a dire questo che al di là di un certo sequestro del tema civile di autoritratto da parte vuoi degli storici dell'arte vuoi delle femministe rimane un'esigenza sostanzialmente inesaudita di Stato di politica e rifiutata a un certo punto un'esigenza che va al di là diciamo così delle scissioni degli scismi e che quel mitico ricominciare da zero a cui Lonzi si è sempre riferita è appunto mitico non solo non ricomincia da zero anche se si può mettere le fonti diciamo così ma a motivazioni pubbliche storiche che vanno molto al di là di quel rapporto a due la cui omertà Lonzi stessa riconosce di dover superare in vai pure e che quindi tutto il discorso di autoritratto e segretamente anche il discorso sull'installazione in Italia venendo alla microstonia nei secondi anni sessanta è un discorso che ha segrete ambizioni costituenti di cui spesso appunto sembriamo non avere memoria quanto ho? dieci minuti ancora? oppure perché adesso vorrei svolgere una digressione tifernate cioè andare a città di castello dove Marisa Volpi va a incontrare Burri abbiamo obletto di inquietudini identitarie che ci sono in autoritratto e introduco appunto questa mia digressione tifernate con le parole di Pasquale che richiama dopo aver richiamato le componenti estatico-religiose dell'esperienza estetica nella devozione degli letterati meridionali cioè l'opera d'arte dovrebbe funzionare come una tavola d'altare per le plebi meridionali contrappone Italia Stati Uniti Roma a New York da una parte afferma abbiamo una mitica natura Roma fra virgolette natura è un virgolettato è Pasquale che parla dall'altro New York la tecnica poesia contro organizzazione e dominio dunque in termini che ci possono sembrare per vie che non saprei dirvi quali possano essere se non la conversazione di Brandi indirettamente clagesiane o heideggeriane scortati dal vigoroso anti-americanismo di Fontana che si farebbe fatica a ricondurre a circostanze prossime come la guerra in Vietnam e che invece affonda con ogni evidenza nell'anti-americanismo anni 30 anche Paolini e Cunellis che hanno tutt'altri riferimenti politico-ideologici immediati o consapevoli introducono ciascuno a suo modo spunti polemici contro l'impero a stelle e strisce rigettando ad esempio l'uso artistico delle nuove tecnologie e qui si aprirebbe da un punto di vista di microstoria artistica un capitolo interessante cioè il ritardo se lo vogliamo chiamare ritardo o rifiuto indigeno sostanzialmente della videoarte come un'arte yankee come un'arte americana questo caratterizza bene tutti i nostri secondi anni sessanta e ha radici profondamente direi teologico-politiche non semplicemente estetiche ci mancherebbe è qui che la categoria di internazionalizzazione adottata da Zapponi per leggere la storia culturale della seconda metà del novecento mi sembra altamente problematica non che ci sia diciamo così un nazionalismo di tipo sciovinista cosa che assolutamente non c'è c'è però un disperato tentativo di come dire inserire dimensioni native all'interno di una conversazione cosmopolica di non arrendersi in qualche modo cioè di recuperare sul modernismo americano interpretandolo ormai americano perché quello europeo diciamo è meno assillante meno normativo come modello recuperando semantiche che sono sostanzialmente di una tradizione latino-cattolica l'espressione è di penone allora è evidente che autoritratto segna appunto intascita coincidenza con l'inizio della fortuna italiana di Boise cioè di una serie di temi mistici di ecologia radicale che solo voglio dire con grande ingenuità potremmo pensare semplicemente progressisti senza conoscere la tradizione diciamo così clagesiana e tutt'altro che progressista dell'ecologia radicale tedesca tra le due guerre autoritratto segna il momento storico-artistico in cui nel nostro paese da posizioni che si vogliono di sinistra critica o che sono comunicate come di sinistra critica ci si rende per la prima volta disponibili autori temi ideologie provenienti da tutt'altre tradizioni varie conflittuali tra loro ma accomunate dal tratto antistoricista o antirazionalista anche di destra cattolicesimo comunitarista e mistico radicalismo anglo-americano contro cultura hippie socialismo utopico ottocentesco ecologismo radicale Germania segreta titolo di un celebre libro di Furio Iesi che è data non a caso 69 è una circostanza questa segnalata per prima proprio da Zapponi ma da lui spostata alla metà degli anni 80 per chi fa storia della filosofia di Angelus Novus di Cacciari si potrebbe dire la stessa cosa questa incredibile opera di camouflage di materiali che non si prestano diciamo così a quella collocazione rassicurante che gli è assegnata lo affermiamo con grande cautela e circospezione storiografica ma in autoritratto è Fontana già attorno alla metà degli anni 60 a incoraggiare la generazione poverista almeno di tradizione diciamo così non marxista sociologico marxista cioè Fabro Paolini eccetera potrebbe essere quelli che vengono da pistoi diciamo così approvarsi nel rinnovamento quanto si vuole ironico ma intrinsecamente appunto antisociologico cioè antimarxista l'antimarxismo inizia qui non si sa bene dove possa finire dell'arte sacra ecco qui si colloca questa data in questo frangente molto carico da un punto di vista storico politico si colloca un'intervista una pseudo intervista diciamo così perché Burri non rilascia interviste di Marisa Volpi a Burri Marisa lo va a visitare e trascrive di fatto brani di conversazione pochissimi sono i virgolettati abbiamo parafrasi ma non abbiamo motivo di non credere che non siano attendibili un'intervista la chiamerò così per semplicità pubblicata su Marca 3 all'interno di un articolo a tre firme Lonzi Volpi e Tommaso Trini sul tema tecniche e materiali al tempo tecniche e materiali sono diventati occasioni di scontro geopolitico l'abbiamo visto facendo il caso della videoarte Italia contro America santità e grazia contro professionismo tecnologico insomma una serie di antitesi più o meno fruttuose condivisibili o interessanti per noi se non da punti di vista storici richiamiamo anche la polemica di Pasquali contro Burri e le plastiche che per agli occhi di Pasquali le plastiche di Burri sono una sorta di resa dell'artista Umbro al capitalismo nordamericano e comprendiamo meglio diciamo così in questo frangente l'urgenza di un'inchiesta su tecniche e materiali come quella considerata è proprio Burri che ci interessa adesso appunto nel contesto di tecniche e materiali in particolare l'intervista da lui rilasciata a Volpi al cui interno spiccano determinate parole molto aspre animate che Burri dedica all'arte americana ad esempio obietta Burri a Rauschenberg l'uso indiscriminato fra virgolette dei nuovi materiali e all'arte pop virgolette l'impressione di approssimativo e sfasciato quindi Burri è molto duro se Fontana aveva chiamato Macaco Pollo che in autoritratto Burri non sembra diciamo così essere più indulgente le contestazioni mutano rapidamente di segno e trapassano stilisticamente questo significa anni 30 dall'ambito artistico a quello socio-antropologico soprattutto antropologico tra gli artisti americani veramente importanti degli ultimi 20 anni riporta Volpi Burri mi cita Pollock e De Kooning gli sembra che gli americani non abbiano all'eccezione di Pollock e De Kooning gli sembra che gli americani non abbiano sufficiente esperienza e conoscenza dell'uomo questo per l'artista italiano cioè molto Burri diciamo è una tradizione di artisti italiani a cui Burri si riferisce da Piero in poi è molto importante l'esperienza Burri li vede cioè gli artisti americani che bevono e parlano di pittura professionismo e evasione da se stessi colpisce nel testo l'insistenza di Volpi sui tratti perenni fra virgolette dell'arte di Burri perenni cioè non dialettici non negoziabili e insieme la sua caratterizzazione di Burri come virgolette quintessenza della grande tradizione italiana ci potremmo chiedere ma Burri non è l'autore dei sacchi dei ferri delle plastiche oggi scopriamo a Venezia che Burri continua a essere un artista per cui i materiali sono decisivi come si fa a essere perenni se la nostra arte è espressività attraverso materiali industriali Volpi replica assicurandoci che per Burri i materiali non hanno nessuna importanza sono semplicemente contingenti che fanno il caso dell'opera quello che è veramente importante è la fatica è il lavoro è il lavoro un tema politico abbastanza importante tra le due guerre quando si parla di corporativismo è il lavoro dell'uomo in qualche caso in specifico il lavoro dell'artista che forgia una dura materia superando le sue resistente con la tenacia l'inflessibilità di un carattere preciso di una tradizione che si vuole nazionale e assicura Volpi che per Burri non c'è differenza tra l'oggi e il passato sono sempre importanti i sentimenti e i comportamenti di fronte alle cose reali l'umanità sopravvive agli avvenimenti più terribili pestilenze carestie guerre argomento su cui Burri è evidentemente molto preparato un artista prosegue Volpi deve avere esperienza delle cose essenziali della vita esperienza qui è il termine chiave della lode di Volpi che è un termine semplice piano senza niente da aggiungere o così almeno pare però Burri circostanzia l'accezione la sua accezione di esperienza in un modo inatteso ci consegna del termine esperienza un'accezione tragico-eroica per niente astratta o atemporale ma tu cur storica o militare gli americani e questa volta è Burri a parlare nella trascrizione di Volpi cioè lo dà per virgolettato Volpi lo dà questo per una frase detta proprio testualmente da Burri e da lei riportata gli americani non fanno niente in prima persona non si trovano in situazioni reali per l'uomo è molto importante conoscersi in situazioni drammatiche dove la verità viene fuori ad esempio se hai sete e non c'è acqua e il tuo compagno ti dà metà della sua borraccia questa è l'esperienza nell'accezione di Burri siamo trasportati in un attimo a ritroso nel tempo nel deserto nel corso forse delle fasi conclusive della guerra in Nord Africa in una trincea difensiva nel modio più franco e asciutto senza nostalgie impossibili Burri evidentemente racconta che qui ha compreso in modo per la prima volta definitivo nelle file dell'Africa Corps la distanza tra il mondo della scarsità e il mondo dell'opulenza e che cosa significhi tenacia e esperienza tenacia e ingegno questa volta con le maiuscole contro logistica e tecnologia sempre con le maiuscole è qui che il saper fare con le mani che Volpi virgolettato così tanto ammira in Volpi è diventato questione di vita in Burri scusate è diventato questione di vita e di morte e chissà ha maturato a distanza attraverso delusioni che devono essere state coscienti quel particolare umanesimo di Burri oggetto adesso in tutt'altre circostanze storico-politiche dell'inchiesta di Volpi che si conclude cito Volpi dico che i suoi quadri mi sembrano quadri mi sembrano la quintessenza della grande tradizione italiana quindi Giotto Piero della Francesca Burri esperienza come elaborazione del dolore o meglio della sconfitta in questo caso politica e militare questo sapere fare con le mani sapere trasmettere fisicamente la forza del pensiero questo è la quintessenza della tradizione italiana e in tal senso Burri mi pare del tutto al di fuori di ogni concezione tecnologica dell'arte di ogni subordinazione all'entusiasmo o all'influenza della civiltà della tecnica e conclude ci si congeda da Burri sempre con l'impressione non solo di aver incontrato un grande artista moderno ma un uomo autentico con la forza e la grazia di quanto c'è ancora di vivo nella civiltà italiana grazia qui come in autoritratto una parola che ritorna di circostanza di rimente in una chiave specificamente antiamericana a suo modo una tacita consegna identitaria ora e concludo anche l'immagine lì sta molto bene concludo con questa considerazione leggendovi anzitutto un passo di un grande americano che ha fatto dell'Italia la sua seconda patria Bernard Berenson un grande storico dell'arte ridotto diciamo così a formalista cosa che non è mai stato e in qualità di ebreo oggetto di persecuzione e di americano ovviamente con la sua decisione di rimanere in Italia ai tatti dal 38 al 45 uno studioso che ha fatto un'esperienza vivissima della vulnerabilità diciamo così e che ha saputo commentare la scena europea italiana negli anni della guerra secondo me con grande acutezza nei diari tardi in uno di questi Echi e Riflessioni Berenson ci dice prendendo il punto di vista di un antifascista storico che per tutta la durata della guerra pur amando la cultura tedesca e credendo fortemente che un'Europa post bellica senza cultura tedesca non avrebbe potuto nascere se non burocraticamente per cultura tedesca intende evidentemente Goethe e Hölderlin non Goebbels nel 1944 scrive qualcosa dal punto di vista degli americani per cui da un punto di vista militare sempre militato segretamente come ovvio da che ce n'è stata l'esigenza con gli adulti italiani spagnoli e tedeschi dice Berenson non c'è niente da fare lo scrive nel 44 a proposito dei compiti di rieducazione che attendono gli alleati al termine della seconda guerra mondiale nei paesi occupati ex fascisti ex nazisti ex totalitari dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi sui giovani e far sì che la nostra versione degli eventi giunga loro ai giovani in tutti i suoi particolari nel più convincente dei modi se non potremo impedire che i loro genitori tentino di incitarli alla vendetta che almeno nelle scuole possano imparare la nostra versione della storia questa è una preoccupazione che i primi governi repubblicani condividono ma in autoritratto con il contorno dell'intervista di Volpi possiamo dire che questa versione della storia invocata da Berenson declina questa o quella voce si mobilita contro quello che Berenson stesso chiama disarmo culturale sia pure non militare ma di altro genere appunto nel far ciò nessuno tra i convitati di autoritratto nutre propositi di apologia il benché minimo al contrario agli occhi dei tanti che Lonzi intervista e che intervengono in proposito il fascismo coincide senza dubbio tanto più nell'accezione mussoliniana ma non solo con l'usurpazione la dilapidazione di un'eredità culturale non con la sua difesa altra cosa sarebbe in realtà il cattolicesimo diciamo inteso in senso antropologico quale Fontana lo ripropone a più riprese ma si è tuttavia smarrito è evidente fiducia nell'attendibilità e completezza della versione alleata questo è quello che possiamo dire nei limiti di un'analisi filologica e talune erranze politico-ideologiche bottai forse ma sicuramente di Fontana e di Burri non costituiscono più in un ambito ripeto sorvegliato e circoscritto pregiudiziali invalicabili urge ritrovare così almeno pare sotto l'aggressività crescente dell'impero diciamo così a stelle strisce se vogliamo datare la biennale del 64 come momento diciamo così in cui la spia dell'allerta si accende ecco urge ritrovare così almeno pare elementi di una grande tradizione italiana da schierare contro la civiltà della tecnica ridestare una quintessenza nativa pronta a stabilire dialoghi cosmopoliti su questo occorre insistere dialoghi cosmopoliti qualcosa come ridestare qualcosa come cito volpi ancora una profondità fuori dal tempo che scongiuri un destino di subalternità per l'arte e la cultura italiana nel difficile contesto atlantico venutosi a creare con la fine della seconda guerra mondiale la guerra fredda e la politica dei blocchi questa la nuova emergenza e la nuova agenda politico-culturale che relega ad altro tempo e altra storia sotto profili almeno di politiche della memoria determinati out-out resistenziali e repubblicani questo siamo nel 69 grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti